Io non voglio dire che c'è una buona cooperazione e una cattiva cooperazione. Che la cooperazione esiste come correttore dei fallimenti del mercato e correttore dei fallimenti dell'impresa non cooperativa. Esiste un'Italia degli onesti che attraversi i partiti. Stiamo cercando di costruire insieme un paese diverso. Io non ho niente di cui da nascondere. Uno sforzo in più per la trasparenza. Nel Jobs Act ci sono tante cose di cui nessuno parla. Io dico che la cooperazione, se è fatta con quegli ideali di allora, è un qualcosa che serve all'Italia. Non è possibile quantificare con esattezza il complesso degli oneri e degli appalti o delle assegnazioni dirette e gestite dalle cooperative. Io sono in un partito democratico che sta insieme perché ha un'idea della giustizia, dell'equità sociale, del welfare, dell'innovazione. È una cazzata totale. Sì eh bella! Io sono in un partito democratico che sia uguale. E salute!